Musica Droga, un arresto a Mussomeli, sequestrati oltre 2 kg di hashish Cocaine e crack, due fermati a Canicatti, custodia cautelare in carcere per uno, misura degli arresti domiciliari per l'altro Canicatti, bracciante picchiato e rapinato, i malviventi portano via 150 euro a un telefono cellulare Caltanissetta, nuovi bus urbani, mezzi a basso impatto ambientale Covid, l'aggiornamento sulla situazione sanitaria in città e in provincia Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale Apriamo parlando di cronaca, droga, un arresto a Mussomeli, sequestrati oltre 2 kg di hashish Quando si è trovato davanti al GUP Santi Bologna che lo ha interrogato Il mussomalese Salvatore Piazza, 37 anni, con diversi precedenti alle spalle Ha ammesso di tenere in casa oltre 2 kg di hashish, sia per uso personale che per rivenderlo Per il presunto pusher si sono dunque aperte le porte del carcere In quanto sul suo capo pende l'accusa di spaccio di stupefacenti La misura è stata applicata dal giudice per le indagini preliminari Subito dopo l'udienza di convalida successiva all'arresto del 37enne Eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Mussomeli I militari dell'arma nel corso di un controllo in casa di piazza Hanno trovato complessivamente 2 kg e 335 g di hashish Custoditi in 4 bottiglie di plastica Una parte era già stata suddivisa in 160 dosi E il resto in 22 panetti avvolti nel cellofan L'indagato aveva scogitato uno stratagemma per nascondere la droga Avendo inserito le bottiglie con all'interno la sostanza all'interno della canna fumaria Nel corso del controllo gli investigatori hanno però notato un filo di uncino Sporgere dall'estremità della medesima canna fumaria E quindi hanno deciso di vederci chiaro Trovando poi lo stupefacente Una volta capito di essere stato scoperto Piazza ha consegnato spontaneamente ai carabinieri Il bilancino di precisione che teneva nascosto dietro il proprio televisore L'avvocato difensore Agata Maira valuterà ora se presentare richieste per la concessione di misure alternative E ancora cronaca Cocaina e crack Due fermati a canica T Custodia cautelare in carcere per uno Misura degli arresti domiciliari Per l'altro Un indagato in carcere L'altro agli arresti domiciliari Misure diverse quelle disposte dal GIP di Agrigento Per due cani cattinesi Di cui sono state fornite solo le iniziali A.G. di 37 anni E.F.C. di 23 anni Che erano stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di cocaina, eroine e crack Di cui una parte già suddivise in numerose dosi pronte per la cessione ai consumatori I poliziotti della squadra mobile di Agrigento Insieme ai colleghi del commissariato di canica T Hanno trovato in possesso dei due presunti pusher Anche denaro contante E materiale necessario per il confezionamento Il taglio e la pesatura delle dosi da rivendere Durante l'operazione è stata riscontrata la presenza di persone minorenni Le quali sono state affidate ai parenti più prossimi Secondo quanto disposto dai magistrati della procura dei minori di Palermo Competente sul territorio agrigentino Momenti di paura in una spiaggia libera di Porto Empedocle Per due bambini di Sera di Falco Che correvano il rischio di annegare Entrambi sono stati salvati da due operatori di una cooperativa La cui postazione si trovava a breve distanza Poco dopo è intervenuto un terzo operatore Che con un pattino ha consentito ai piccoli soccorritori di tornare sulla terraferma E appunto a braccetto nel ragusano Un militare in forza alla compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria Fuori dall'orario di servizio ha salvato una bambina Che stava per annegare nei pressi di uno stabilimento turistico Nonostante le condizioni meteomarine non fossero favorevoli L'atto del militare si legge in una nota Conferma la vicinanza degli appartenenti e la Guardia di Finanza Che ha bisogno e la costante attività svolta a tutela dei cittadini E adesso ci spostiamo a Canicattì Dove un bracciante è stato picchiato e rapinato A Canicattì è caccia due malviventi Che hanno aggredito un giovane bracciante agricolo straniero per rapinarlo Quest'ultimo, un 27enne che risiede regolarmente da anni Nel centro della provincia agrigentina È stato avvicinato da due persone che lo hanno subito aggredito Colpendolo ripetutamente con calci e pugni Obiettivo dei rapinatori il borsello Nel quale la vittima dell'aggressione custodiva 150 euro Il giovane che ha riportato alcune contusioni È rimasto stordito e sorpreso dall'accaduto Ma è comunque riuscito a chiamare i carabinieri Che sono giunti rapidamente sul posto E hanno raccolto le prime dichiarazioni della persona offesa Acquisendo elementi per cercare di accertare l'identità dei rapinatori Questi ultimi, dopo aver compiuto il raid, sono fuggiti a piedi Sul posto sono arrivati anche i soccorritori del 118 Che hanno prestato le prime cure al giovane rapinato E adesso cambiamo ancora una volta argomento Parliamo di viabilità, caltanissetta In arrivo nuovi bus urbani, mezzi a basso impatto ambientale E dovranno essere dotati anche di videosorveglianza interna Verranno acquistati nuovi autobus urbani Per il rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano Con l'introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale Utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo Nell'ambito del POFESD 2014-2020 Dell'agenda urbana di Enne Caltanissetta Polo Urbano Centro Sicilia E' stato ammesso infatti a finanziamento il progetto di 1.491.030,88 euro Che permetterà di acquistare dei mezzi meno inquinanti E per l'esattezza 625.920 euro al netto dell'IVA Per tre autobus urbani corti a gasolio Euro 6 Con precise caratteristiche come una postazione per le persone con disabilità Con pedana manuale o la guida a terra con cricchetti per fermo carrozzina Il dispositivo per il conteggio dei passeggeri in salita e discesa E per la validazione elettronica dei biglietti Sistema di videosorveglianza interno Rilevamento della posizione del mezzo durante la corsa Installazione di un modem router Wi-Fi per la connessione ad internet E ancora, indicatori di linea e di percorso a LED ultraluminosi di colore bianco o giallo Vengono richiesti anche particolari requisiti per quanto riguarda la cabina di guida I rivestimenti interni, porte, vetratura, illuminazione interna, riscaldamento e reazione Sedili, scritte, segnaletiche, strumentazioni e ulteriori accessori Caratteristiche precise che vengono richieste anche per un autobus urbano corto elettrico Destinando un importo di 332.560 euro sempre al netto dell'IVA E uno cortissimo elettrico per un importo di 243.059 euro al netto dell'IVA Da lunedì 22 agosto la Villa Medeo rimarrà momentaneamente chiusa E quindi non sarà più fruibile dalla cittadinanza Poiché inizieranno i lavori tanto attesi in città Interventi che interesseranno anche la Villa Cordova Dove cominceranno successivamente all'area verde di Viale Regina Margherita Lavori che riguarderanno non soltanto la manutenzione del verde e delle aree giochi per bambini Ma anche tra gli altri le fontane, pavimentazione e i servizi igienici Adesso andiamo all'aggiornamento sulla situazione sanitaria in città e in provincia 27.296 nuovi casi in tutta Italia Questo è il dato dell'incremento rispetto al giorno precedente Secondo il bollettino giornaliero del 18 agosto Consultabile dal sito tematico dedicato al Covid-19 del Ministero della Salute Il numero relativo alla sola regione siciliana è pari a 2.082 casi In provincia invece l'aggiornamento della spenissena del 18 agosto Relativo alle 24 ore precedenti parla di 113 nuovi casi I pazienti positivi al SARS-CoV-2 sono tutti in isolamento domiciliare E per l'esattezza 37 pazienti di Gela, 20 di Caltanissetta, 10 di Niscemi, 9 di San Cataldo, 7 di Riesi, 5 di Sommatino, 5 di Milena, 4 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Serra di Falco, 3 di Sutera, 2 di Delia, 2 di Marianopoli, 2 di Mussomeli e 1 di Montedoro 4 i ricoveri in degenza ordinaria, 3 pazienti di Caltanissetta e 1 di Sutera 9 invece le dimissioni sempre dalla degenza ordinaria, 6 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela e 1 di Riesi Guariti dal Covid-19 infine, 28 pazienti di Gela, 20 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 6 di Mazzarino, 6 di Sommatino, 5 di Riesi, 4 di Butera, 4 di Niscemi, 3 di Campofranco, 3 di Mussomeli, 2 di Marianopoli, 2 di Vallelunga-Pratameno, 1 di Delia, 1 di Montedoro e 1 di Serra di Falco Cornicione pericolante a Caltanissetta, intervento dei vigili del fuoco in via San Giovanni Bosco, traffico temporaneamente deviato in via Redentore Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi in via San Giovanni Bosco per mettere in sicurezza il cornicione pericolante del balcone di un appartamento situato all'ultimo piano di un palazzo di nove piani La caduta di alcuni detriti ha allarmato i residenti dello stabile che hanno subito chiamato i vigili del fuoco i quali sono intervenuti prontamente in via San Giovanni Bosco con l'autoscala Per eseguire l'intervento nel migliore dei modi è stato necessario bloccare il transito delle auto nella via A tal proposito si è reso necessario anche l'intervento della Polizia Municipale con i vigili che hanno bloccato l'accesso in via San Giovanni Bosco all'altezza dell'incrocio con via Redentore Il traffico è stato infatti dirottato dai vigili urbani sul prolungamento della stessa via Redentore A Sera di Falco prosegue la quarta edizione di Performare Festival Vediamo gli appuntamenti dal 21 al 28 agosto Dal 21 al 28 agosto a Sera di Falco ci saranno spettacoli in prima nazionale e prima regionale residenze artistiche ma anche incontri e presentazioni sul tema della danza contemporanea Dopo gli appuntamenti di luglio prosegue infatti la quarta edizione del Performare Festival manifestazione voluta dall'associazione in arte con la direzione artistica di Simona Miraglia e Amalia Borsellino del collettivo Sicily Made E' ancora organizzata grazie anche al patrocino e contributo del Ministero della Cultura assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della regione siciliana Comune di Sera di Falco E' realizzata con il coinvolgimento di numerosi partner, associazioni e realtà siciliane Nelle varie location scelte si esibiranno artisti e compagnie di danza contemporanea nazionali e internazionali Attorno al tema scelto quest'anno, i confini dell'immaginazione, si svilupperà il programma della manifestazione che punta alla diffusione della danza, al radicamento delle arti performative nel territorio e al coinvolgimento dei più giovani in una crescita artistica condivisa così com'è nella natura di Performare Festival sin dalla sua prima edizione, si legge nel comunicato Tra i momenti cruciali la sezione è Performare Project, protagonisti, coreografi Peter Giasco e Clara Fury artisti di fama internazionale con una residenza artistica dal 22 al 26 agosto un progetto in condivisione con il Marosi Festival Per il debutto in prima nazionale il 26 agosto di Dog Play una creazione originale verranno coinvolti nella realizzazione danzatori professionisti alcuni studenti del liceo coreotico Ruggero VII di Caltanissetta Si prevede anche nella stessa sezione un laboratorio gratuito di scrittura critica dal 25 al 28 agosto rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni e poi ancora tra gli eventi la presentazione di libri uno spettacolo pensato per i più piccoli che coinvolgerà anche gli adulti e ancora musica con il concerto conclusivo di domenica 28 agosto Coppa Italia Serie D San Cataldese Catania al Mazzola il club verde amaranto tessera Gabriele Mastrosimone classe 2004 Tutto pronto per San Cataldese Catania turno preliminare di Coppa Italia di Serie D in programma domenica 21 alle ore 16 allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo Si prevede il tutto esaurito sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni per la prima assoluta del nuovo Catania che potrà contare sul sostegno di diverse centinaia di tifosi Intanto la società verde amaranto ha tesserato l'attaccante Gabriele Mastrosimone che ha giocato anche nelle giovanili del Catania Mastrosimone classe 2004 sarà immediatamente a disposizione del tecnico Matteo Vullo e potrà scendere in campo anche contro gli etnei A San Cataldo c'è grande attesa per l'evento sicuramente di portata storica per la città dopo quello vissuto in occasione della gara di campionato con il Bari Nell'ambito del turno preliminare di Coppa previsti anche Cassino Gladiator Paganese Puteolana, Angri Palmese, Barletta Matese, Lavello Casarano, Nardò Martina Matera Altamura, Locri Vibonese e Castrovillari San Luca La vincente di San Cataldese Catania affronterà domenica 28 il Paternò e il 28 per il primo turno prevista anche Trapani Licata Inoltre scenderanno in campo Città di Sant'Agata, Cittanovese, Santa Maria Cilento e la Mezzia Terme E nelle ultime ore la San Cataldese ha annunciato l'arrivo di Sebastiano Magri classe 2004 difensore cresciuto nel settore giovanile del Catania ad annunciare il tesseramento del giovane e la stessa società Verde Amaranto attraverso la pagina social ufficiale a poche ore dalla partita con il Catania un lutto ha colpito la società etnea la tifoseria rosa-azzurra si è spento domenico Mimmo Labrocca nel giorno del suo settantesimo compleanno calciatore generoso e infaticabile tra i protagonisti delle promozioni del Catania nel 1980 dalla C alla B e nel 1983 dalla B alla Serie A e ancora a calcio il Gela si impone nell'amichevole con la Nissa 1-0 decide un gol di Ascia il Gela si impone nell'amichevole con la Nissa al Vincenzo Presti 1-0 decide un gol di Davide Ascia con un tiro a giro sul quale nulla può l'estremo difensore biancoscudato Chimenti per la squadra nissena un'occasione per provare schemi e soluzioni tattiche in vista del primo impegno di Coppa Italia programmato il 28 agosto ancora a Gela con un'altra squadra della città del Golfo il Gela FC prima di quella data sabato un altro test amichevole al Nicola De Simone di Siracusa con la massima espressione calcistica locale una società che punta al ritorno nel campionato di Serie D le dichiarazioni dell'allenatore Alessandro Settineri al termine dell'impegno con il Gela sulla pagina social biancoscudata è stato un buon test con una squadra che ha avuto una grande intensità però ho variato ho sperimentato perché credo sia giusto in questo momento valutare tante situazioni valutare a pieno regime l'organico in modo tale che se eventualmente c'è da fare qualche cosa lo si fa in tempo utile se qualcuno non si integra bene a questo progetto probabilmente c'è il tempo per correggere la tipologia di calciatori per cui ripeto un test validissimo sapevamo che saremmo stati carichi di lavoro ma era preventivato però tante indicazioni le cose brutte sono sicuramente il fatto della frenesia di dover arrivare in porta e fare gol il primo possibile una squadra matura ma non siamo noi perché stiamo crescendo nel nostro percorso deve imparare ad avere pazienza noi invece tante giocate le abbiamo forzate siamo arrivati tante volte dentro con molta superbia da questo punto di vista e non serve per quanto riguarda le cose belle abbiamo un'identità è un calcio che credo sia piacevole a vedere che ha dei rischi però bisogna lavorarci essere convinti di quello che si fa e devo dire che i ragazzi si applicano al massimo delle proprie forze come avete visto 3-4 dopo qualche minuto mi hanno anche chiesto il cambio perché probabilmente non riuscivano però ripeto è giusto così bisogna faticare per ottenere risultati chi non fatica difficilmente chi vive di ozio difficilmente riesce a ottenere risultati però è un gruppo che lavora e quindi sicuramente faremo buone cose bene anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo e le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di sabato il tempo andrà migliorando su gran parte d'Italia soprattutto al centro nord grazie all'allontanamento della circolazione depressionaria verso i Balcani infatti osservando anche la mappa della nuvolosità avremo una giornata tipicamente assolata su buona parte del nostro paese salvo una residua instabilità che potrà insistere sui settori alpini orientali ma soprattutto sulle aree interne del sud nel corso delle ore pomeridiane infatti osservando il tempo che ci aspetta avremo una giornata stabile ampiamente soleggiata su gran parte del centro nord Italia qualche disturbo come dicevo sui settori alpini orientali mentre nel pomeriggio si attiverà un po' di instabilità sull'estremo sud con la possibilità per piogge temporali che dai settori appenninici potranno anche sconfinare fin sulle coste temperature comunque in rialzo specie sulle regioni centro settentrionali con clima caldo tipico estivo ma fresco di notte al mattino per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Tribi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno La China Via Fraggia Ratana Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori